Questo progetto di alternanza o tranto personaggi e luoghi di un romanzo nasce da un'idea della professoressa Giuliana Paternello nell'ambito del suo progetto lettura che ha previsto l'analisi del romanzo storico l'ora di tutti di Maria Corti, l'analisi personaggi e infine la vista dei luoghi di teatro delle vicende narrati sullo sfondo storico dell'arrivo di Turchia d'Otranto e la lettura di beni significativi sul campo. Questa idea nell'ottica di una didattica interdisciplinare e funzionale al nostro indirizzo di studio si è intracciato con i contenuti e la finalità della geografia dando vita ad un progetto di PCTO che si inserisce nei percorsi progettati da Italia Nostra per la realizzazione di itinerari turistici sostenibili praticati attraverso una mobilità dolce. Tutore scolastico professore Giovanni Giancane ha affiancato e guidato la classe durante l'intero percorso con la supervisione del tutor aziendale Italia Nostra Diego Friggino e ha curato soprattutto la fase iniziale formativa. Il progetto di storytelling è sviluppato attraverso quattro fasi, la fase formativa nella quale attraverso video lezioni con esperti nel settore si sono appresi concetti essenziali di turismo sostenibile e mobilità dolce, laboratoriale durante la quale si sono effettuate le ricerche online sul campo alla progettazione del itinerario. La terza restitutiva ha permesso di realizzare il prodotto finale attraverso il software per lo storytelling ArcGIS StoryMap dell'SRLI. Fase esperienziale, al termine del progetto si è deciso di effettuare realmente la visita, seguendo l'itinerario costruito al fine di creare e vivere l'esperienza scaturita dalla lettura del libro ed assicurarsi la reale fattibilità del percorso. La scelta di utilizzare ArcGIS StoryMap, suggerita Italia Nostra, è stata l'occasione per imparare ad utilizzare uno strumento di storytelling altamente innovativo che ci ha permesso di sviluppare significative competenze informatiche che si sono aggiunte alle altre competenze attivate da questo percorso anche in campo relazionale, artistico e linguistico. Scelta di utilizzare ArcGIS